musica amici e amici di Volonvrite siamo qua con Zuli nostro amico rapper ma cantautore soprattutto questa cosa mi piace cantautore fa molto retro però a me piace di più a me piace con lo stick e ancora più retro oggi non è caldissimo stick e vintage oggi non è caldissimo ma ci sta ci sta sempre quando c'è bisogno di freschezza di rinfrescarsi ci vuole con ogni mezzo necessario assolutamente dialoghi della salute rap qual è l'utilità sociale del rap al di fuori delle classifiche noi oggi siamo invasi abbastanza da canzoni rap da tutte le parti a volte se ne può anche perdere magari un po' l'utilità sociale invece il rap parte come fenomeno sociale per cui il fatto che adesso sia in cima alle classifiche che sia il fenomeno di moda sociale del momento è stata una combinazione ma il rap nasce come fenomeno sociale nasce come una ricerca della propria identità nasce come un modo di comunicare l'altra faccia della medaglia della moda e delle classifiche come dicevi tu adesso è questa qui il fatto che questo strumento di comunicazione che è veramente gettonato da tutti giovani e giovanissimi possa tornare a essere per tutti non soltanto un qualcosa da vivere passivamente ascoltandolo guardandolo ma cercando veramente di immedesimarsi di utilizzarlo come dicevo prima come strumento comunicativo il rap perché personalmente il mio percorso è partito con questo proprio per la facilità con cui si può accedere al rap e non non lo so alla musica classica per cui senza fare minimamente confronti proprio una questione di preparazione di attitudine il rap è la parola è il potere della parola per cui sostanzialmente chiunque abbia delle parole che siano importanti o dei grandi casini da verbalizzare è qui che torna utile lo strumento del rap indubbiamente questo è perfetto speriamo di poterne fare l'uso migliore beh c'è questa grande collaborazione insieme che partirà con Volonbrite possiamo dire certo spoileriamo invece non è per nulla vintage però ci sta spoileriamo che Large Motive che è la mia organizzazione la mia associazione che si occupa di ragazzi in particolar modo con il fuoco su questo progetto del rap avrà l'onore di condividere insieme a Volonbrite un primo progetto un primo videoclip dove le musiche le hanno fatto i ragazzi in riferimento al progetto percorso dialoghi sulla salute negli spazi di Corso Unione l'associazione Large Motive e l'associazione Volonbrite si occuperà di creare il videoclip insomma quello che è venuto fuori dalle parole di questi ragazzi ottimo l'abbiamo detto anche insieme perfetto bisogna toccarsi il naso cosa che bisogna fare queste cose io facevo il cornetto volante grazie Marco un saluto a tutti voi ciao 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 ciao